Grazie a voi. Tanti argomenti di cui parlare, tanti argomenti di cui discutere. Cominciamo innanzitutto con il tema del coronavirus, della pandemia. Che cosa ha rappresentato anche per il settore agricolo che voi appunto rappresentate? È stato un anno sicuramente da ricordare per i prossimi anni, lo ricorderemo bene quest'anno del coronavirus. Che ha messo tutti con questa realtà. Comunque il mondo agricolo da sempre è abituato a lavorare anche in condizioni di questo tipo. Perché non dimentichiamoci che mangiare bisogna e per mangiare bisogna produrre. Per cui l'agricoltura non si è fermata con il coronavirus. Ha subito le conseguenze del coronavirus sicuramente. Per cui noi come Confaricoltura i nostri uffici sono sempre rimasti aperti perché le nostre aziende stavano comunque continuando a lavorare. Chiaramente con tutte le conseguenze, con tutti i cambiamenti che hanno dovuto subire i nostri dipendenti sia all'interno di Confaricoltura ma sia all'interno anche delle aziende agricole. Non dimentichiamo che lavorare per ore con la mascherina addosso in condizioni anche particolarmente difficili, anche di sforzo, non è stato facile per i nostri collaboratori. Questo chiaramente mi ha anche fatto pensare di avere a che abbiamo comunque all'interno nostro collaboratori sempre molto affidabili e che ha saputo affrontare l'emergenza veramente con il cuore. Perché poi sicuramente quando succedono queste cose si dimentica tutto e comunque si tende ad andare avanti in ogni caso. Abbiamo subito il coronavirus all'inizio perché c'è stata anche molta confusione anche nel trasmettere tutte le varie ordinanze. Ogni settimana c'era un'ordinanza, ogni settimana c'era l'ordinanza della Regione, poi c'era quella del Ministero. Per cui anche lì la lettura da parte degli uffici su come dovevamo comportarci e se potevamo muoverci perché comunque c'erano delle attività che dovevano comunque trasportare i prodotti, vendere i prodotti. Per cui ci sono state anche delle attività che poi sono state anche bloccate tipo i florovivaisti che hanno subito all'inizio un forte contracolpo da questa emergenza. Proprio perché era il periodo principale, quello primaverile. Era il periodo primaverile in cui in genere in primavera c'era la vendita delle piantine, la coltivazione degli orti e così. Diciamo che a Belluno è intervenuto in un periodo ancora precoce per cui siamo riusciti anche lì attraverso poi delle pressioni e a liberare un po' come è stato fatto per i supermercati. Il fatto di poter concedere ai cittadini di potersi le carne e le sare per acquistare le piantine e questo è stato fatto in un secondo tempo e questo ha fatto in modo di aiutare proprio queste attività che stavano effettivamente andando in crisi anche molto grave perché gli ordini ormai erano stati fatti e si rischiava di buttare al massimo milioni di piantine per cui poi quello è stato anche abbastanza risolto. Adesso l'attività è ripresa? Adesso è anche ripresa, io ho parlato con i florovivaisti qua della provincia e diciamo questo, guardando quello che è successo alla fine dell'anno sono contenti comunque perché sono riusciti ad uscirne. Non sarà un anno di vacche grasse però comunque un anno in cui si spera di portare quantomeno i bilanci a perdere poco. Non diciamo pareggio perché il pareggio in agricoltura è una cosa quasi sempre abbastanza difficile da ottenere. Alle volte si lavora per limitare le perdite in certi settori. E particolarmente compromesso Presidente è stato anche il settore del turismo, pensiamo anche gli agriturismi del territorio. Anche gli agriturismi hanno subito chiaramente come i nostri albergatori, come tutta l'attività turistica, come tutto l'oreca, se guardiamo i bar, la ristorazione, sono rimasti fermi per un certo periodo. Va detto questo, che l'agriturismo si consiglia sempre che sia un'attività secondaria, per cui è sempre un'attività di supporto all'attività agricola, per cui forse che hanno perso un po' di più sono coloro che magari puntano forse molto di più sull'attività turistica che non sull'attività agricola. Però francamente in genere non è così, in agricoltura si tende sempre a mantenere l'attività agrituristica come attività di integrazione al reddito agricolo. Di quello che c'è. Agriturismi che adesso, venendo un po' più all'attualità, i giorni nostri, sono stati coinvolti anche meta, diciamo, per il Ferragosto. Abbiamo da poco festeggiato questa ricorrenza, appunto, le malghe, gli agriturismi, insomma, nel territorio della montagna bellunese, sono molto gettonati anche proprio in questo periodo dell'estate. Sì, abbiamo avuto anche una stagione molto strana, delle stagioni strane. Va detto anche questo, che eravamo nel periodo di gennaio-marzo, in cui tempo bellissimo, nel momento in cui c'era anche l'emergenza Covid, un tempo splendido. Poi quando è calata un po' l'emergenza Covid e sono iniziati i lavori in campagna, è iniziato a piovere, diciamo che va detto che forse non c'è neanche più la stagione. Viviamo adesso in un periodo come agosto, in cui c'è un'afa incredibile. Questo ha sicuramente spinto molti della pianura a venire nelle nostre montagne. Ed ecco che nel periodo qua di Ferragosto abbiamo subito veramente l'assalto dei turisti. Ma c'era da aspettarselo questo, perché col fatto di non poter andare all'estero, col fatto di non voler andare nei posti dove c'è praticamente troppa gente, credo che molti hanno scelto proprio la montagna quest'anno. Quindi possiamo dire che è stato un Ferragosto positivo? È stato estremamente positivo, credo per tutti, anche per la vendita dei nostri prodotti, dei nostri formaggi che vengono fatti nelle malghe. Noi abbiamo ancora una realtà in cui le malghe producono il formaggio in montagna, non è come in altre realtà tipo Bolzano o Trento, dove il latte viene raccolto e portato alla latteria e viene trasformato nel fondo valle. Noi abbiamo ancora moltissime strutture in montagna che trasformano il latte, per cui questi formaggi particolari, ogni malga ha un po' la sua tipicità da vendere. E questo il turista lo apprezza molto, come apprezza molto anche le nostre carni. Tra l'altro abbiamo anche strutture che trasformano e vendono la carne del nostro territorio, che portano molto spesso anche loro la carne su, perché gli agriturismi, una parte può essere dell'azienda, una parte hanno anche l'obbligo di acquistare carni e prodotti locali da vendere nell'agriturismo e questo aiuta, diciamo. Ecco, Presidente, comunque fra i vari aspetti della pandemia, che è stata una cosa che ci ha sconvolto tutti quanti, drammatica, diciamo che forse si è riuscito a mettere in luce comunque ancor più l'innovazione comunque dei nostri agricoltori, dei nostri imprenditori, che nelle varie sfaccettature hanno saputo comunque in qualche modo reinventarsi, no? Pensiamo anche tutta la parte delle consegne a domicilio. Sì, come ogni disgrazia, bisogna sempre saper cogliere un po' anche gli effetti positivi che possono derivare da queste disgrazie. Un effetto positivo è stato quello poi di incentrare vendite, di riportarsi sulle vendite a domicilio ed anche utilizzare il canale delle vendite online, che sono cresciute molto proprio in questo periodo e mi riferisco anche a tutto il settore del comparto del vino, che è stato anche quello fortemente colpito da questa pandemia. Sono venuti a saltare moltissime forniture che venivano fatti a bar e alla ristorazione. Sì che in questo periodo poi si sono adattati a ricercare canali di vendita che chiaramente portassero il vino anche in giro per il mondo. Mi riferisco a piattaforme chiaramente importanti che non cito. Certo, assolutamente. Tra l'altro, Presidente, la viticoltura prende sempre più piede anche nel territorio bellunese. Sì, abbiamo... Ci sono costituiti, ad esempio, dei gruppi, ci sono messi assieme dei viticoltori, vedo nell'area di Mella, anche nell'Alpago, nel Feltrino. Nel Feltrino c'è un consorzio delle coste del Feltrino, sono dei produttori che stanno riportando e trasformando i vitigni autocloni della provincia di Belluno e anche qualche varietà resistente. C'è un viticoltore, tra l'altro, nostro associato, che sta concludendo un investimento molto importante, una cantina in un bel posto dominante su Feltre, che andremo sicuramente a inaugurare nei prossimi mesi. E poi ci sono dei viticoltori qua nella zona invece di Mel, ma anche su nella zona di Cesio. Tutte le zone, diciamo, che stavano per essere quasi abbandonate, perché il bosco avanza, si doveva cercare comunque anche un'alternativa di reddito oltre alla zootecnia, che è quella che fa l'economia agricola della provincia di Belluno e la zootecnia. Però, nonostante ci siano latte brusche, nonostante ci siano delle belle realtà, delle piccole latterie che trasformano e pagano anche quelle molto bene in latte, nonostante questo, vediamo un territorio comunque che si sta avanzando il bosco. La viticoltura può aiutare molto per riprendere un po' anche a dare quel sostegno in più che serve appunto per mantenere anche questo territorio che è difficile. E si ritorna anche poi al discorso che facevamo prima di un modo per incentivare quel turismo enogastronomico che tanto caratterizza anche il territorio bellunese, ma direi comunque tutto il bel paese, no? Perché dove si va, vacanza vuol dire anche prodotti, cibo, cultura, insomma... Sì, comunque abbiamo non solo la viticoltura, ma si stanno anche aprendo delle realtà che fanno la birra agricola, alcuni che stanno facendo degli insaccati particolari sfruttando anche un modo di produrre suini tenendoli all'aperto, facendo delle produzioni, chiaramente parliamo sempre di produzioni di nicchia, non produzioni che possono raggiungere mercati chissà di quali, però questo aiuta notevolmente a gestire questo territorio. E sono, Presidente, anche giovani che si cimentano con queste nuove esperienze? I giovani vengono attratti proprio dalla natura, in primo, perché vivere all'aperto, vivere in campagna, lavorare in campagna, con queste opportunità di trasformare, di vendere il proprio prodotto, di fare anche attività turistica, cioè queste aziende che sfruttano la propria terra per svolgere questa attività ormai multifunzionale, si dice, ormai l'agricoltura non è più legata solo a produrre beni alimentari, ma a produrre anche servizi, soprattutto, e i giovani vengono attratti proprio da questo tipo di agricoltura. In provincia di Belluno ne abbiamo tantissimi e vanno aiutati e vanno supportati sicuramente con politiche non solo di sostegno da parte della Regione o dell'Europa, ma anche con, io credo, con politiche di sostegno anche da parte poi degli enti che, parlo anche delle banche e soprattutto degli enti locali, perché alle volte vediamo che non sono magari bene accolti nella comunità locale questi nuovi insediamenti. Invece questo forse potrebbe essere anche un modo per arginare, per cercare di fermare quel grande spopolamento della montagna, che insomma è il grande tema che coinvolge il territorio belunese. Senta Presidente, cambiamo un attimo argomento perché abbiamo ancora altre cose di cui parlare con lei. Prende sempre più piede anche nel territorio belunese comunque l'agricoltura sociale. Anche voi come Confagricoltura appunto avete spronato i vari rappresentanti del territorio, i vari agricoltori a cimentarsi anche con questo. Noi è da anni che a livello nazionale portiamo avanti questo progetto di agricoltura sociale e ci siamo accorti anche noi che al nostro interno ci sono delle aziende agricole che si stanno muovendo su questo campo, offrendo chiaramente anche lì servizi e collaborano con l'azienda sanitaria per le tossicodipendenze, chi per problemi sociali di altro tipo, perché poi continuamente ci stiamo accorgendo anche di famiglie che stanno andando in difficoltà anche dal punto di vista economico e vanno comunque supportate poi anche quelle, si creano questi lavori, si chiamano socialmente utili e vengono chiaramente gestiti anche all'interno delle aziende agricole. E ci sono degli appositi bandi appunto per incentivare. Senza parlare poi che ci sono anche delle aziende agricole che nel momento del bisogno hanno avuto anche la possibilità di assumere anche extracomunitari che purtroppo sono nell'emergenza, arrivano e vanno comunque gestiti. Per cui da dire questo, sì che in provincia ci sono delle bellissime realtà che si stanno sviluppando e una di queste sta facendo dei progetti interessanti a Viliago perché hanno avuto in assegnazione l'azienda del Veneto Agricoltura insieme a un altro progetto di gestire anche un vigneto nella zona di Seren, in un vigneto resistente e lì attraverso l'utilizzo di persone che hanno necessità comunque di essere introdotte nel mondo del lavoro. Senta Presidente, un altro problema che coinvolge il territorio bellunese e insomma un tema di cui si discute molto anche a livello della pubblica opinione è la questione della presenza del lupo in provincia. Qual è la posizione di Confagricoltura su questo? Ci mancava solo questa a Belluno. Noi l'abbiamo sostenuto fin dall'inizio, fin da quando abbiamo avuto la percezione che ci fosse la volontà di far arrivare il lupo in provincia di Belluno e abbiamo subito dato l'allarme non solo ai nostri associati ma all'intera collettività nel senso che noi viviamo in un ambiente fortemente antropizzato dove, l'abbiamo detto prima, molti si stanno riavvicinando al fatto di vivere fuori e di sviluppare attività e quando si parla di sviluppare attività chiaramente una delle attività principali è la zootecnia e il fatto di avere dei terreni comunque difficili da gestire manualmente allora si utilizzano, si utilizza del bestiame e si mette a, si fanno dei recinti senza parlare poi che abbiamo nella zona dell'Alpago una pecola in via di estinzione dove anche lì avevamo subito preannunciato guardate che sarà molto difficile perché si parla di convivenza, di convivere con la presenza del lupo e di noi abbiamo subito sostenuto guardate che sarà praticamente impossibile e lì poi è successo tutto quello che è successo dalle varie predazioni per cui a un certo punto noi come Confraicoltura non abbiamo neanche più partecipato devo essere sincero a questi incontri in cui venivano i funzionari della regione a spiegare, a vedere, a fare perché la nostra posizione la sanno da sempre qual è che è il fatto che se vogliono riportare e avere degli ambienti naturali decidano dove prendono un pezzo della provincia di Belluno se lo recintano ci mettono dentro i lupi ci mettono dentro gli orsi ci mettono dentro quello che io credo siano comunque tutte cose che sono state decise non nei tavoli della regione ma sicuramente in altri tavoli forse a Bruxelles per riportare ad aree naturali alcune le Alpi alcune zone delle Alpi di riportarle ad ambienti naturali questo si scontra completamente con le nostre attività purtroppo se ne devono far carico e diventa altrimenti difficile e diventa molto 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 difficile e qui stiamo rischiando perché poi va detto e va denunciato l'abbandono perché ci sono molti allevatori anche nostri associati che hanno stanno buttando la spugna cioè sono ancora legati in questo momento al fatto che stanno percependo dei contributi per gestire dei pascovi che a malapena con questi contributi riescono a chiudere i bilanci in attivo per cui pensare di chiedere a queste persone di continuare a vivere in queste condizioni credo sia praticamente impossibile poi qualcuno se ne deve far carico certo dopo ci sono tante sensibilità anche da dover tenere in considerazione però il lavoro da fare sulla tematica Lupo è ancora molta purtroppo il nostro tempo è finito Presidente io la devo salutare ma la ringrazio appunto per essere stato qui con noi e ci ritroveremo in futuro appunto per approfondire queste tematiche approfondiremo grazie a voi a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto arrivederci grazie a tutti grazie